Oh no! Scappa! 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 Buon Halloween a tutti! Per celebrare questa festa, la mia amica Aline mi ha proposto di giocare a Minecraft con un modpack apparentemente horror. Il nostro obiettivo doveva essere quello di costruire una casa e fare almeno qualche progresso, ma è andata diversamente. Sperando che il video sia di vostro gradimento, vi auguro una buona visione e un buon Halloween. Iniziamo a fare una vanilla normalissima. Qua qua la gente scoprirà il vero lato di me, c'ho povera di qualsiasi cosa. Vabbè, io i rumori li sento, ma so che sono di qualche mod, però cerco di ignorarli. Oh. Non ho visto niente. Che so, sti suoni? Perché sempre a me capitano sti cosi? Possiamo fare una spada, nel caso già qualcuno ci vuole attaccare. Just in case. Just in case. Tanta, non dobbiamo mica fare una casa. Sì, sì, no. Vabbè, io ho fatto una pacca, eventualmente ci sarebbe qualcosa. Ok, sto già sudando, ho capito? Sto già sudando. Eh, boh, vogliamo andare in miniera? No, ti prego. Cosa fai subito quando fai una vanilla su Mario? No. Vabbè, vado a tornare un po' di risorse in giro prima. Non è che vado già in miniera. E poi so già che c'è in miniera, ho paura della roba che sta in miniera. Ok, allora andiamo in giro. Un proscione. Dov'è il proscione? C'è un proscione. Oh mio Dio, c'è un raccoon. Uè, cos'è quello? Che Dio, sangue. Ah, ecco qua. Hai visto anche te, vero? C'è avuto il primo infarto, non voglio fare questo. Hai visto anche te, vero? Vabbè ragazzi, il video è finito. Oddio, cos'è sta roba? È un borde. Mordecai. Sì, è vero, è Mordecai. Ciao, Mordecai. Oddio, una ligatura, è lì. I'm a crocodile, baby. Guarda che bifiorillini. Ma che bifiorillini. Eh, bene. Dobbiamo aprile. Wild flop. Che sono questi rumori? Beh, ma è che fiori. Adi, mi sa che abbiamo messo troppe mod. C'era un tizio. Un coso alto nero. È nero. Fa paura già perché è nero. Andy? Questa è la zona più tranquilla al mondo. Sì, questa è la snap. Ho rovinato qualcosa che è apparso. Alice, stai qua, vieni qua, ti prego, non ti allontanare. Porco giuda, mi è spuntato qualcosa alto nero davanti. Tu hai idea di cosa succede la notte? Tu hai idea? No, io sto sentendo anche dei sbisbisbis, gli iniziano ad esserci. Oh, non è una bella musica questa. È notte. Ui, il futuro. Ok. Io che adesso è notte, io mi metto solo Wisp. Aspetta! Sono di suoi brutti. Ok, possiamo andare. Vieni, Ale. Andy, anche a te è cambiata la visuale. Che senso è cambiata la visuale? Ok, solo a me mi è cambiata la visuale. Che cosa vedi, scusa? Vedo un corner. Ok. Allora, senti, non so cosa fa. Andy? Eh, c'è un coso, Ali. C'è un coso. Non vedo se mi vuole. Lontano da lei. Ma che c... Oddio, ma fa tipo un sacco di notte. Non fa nemmeno paura, posso dire. Sto coso, cioè, non fa paura. E poi, quando sparisce, c'è uno stregone. Questa non è parte della modoro. Prego. Aspettami, non correre, arrivo. Aiuto. Guarda che sei... Guarda che... No, che sta succedendo? Cosa mi sta uccidendo? Oh, shit. No, no. No. Non da solo. Non da solo. Ok, è morta, è morta, Ali, è morta. Tu non da, Ali. Ali, Ali, Ali. Di solito, Andy, è come... Andiamo in maniera. No, io non vado in maniera. No, 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 io non vado in maniera. Non è così male per il momento. Per il momento. Oddio l'eco, hai sentito? Sì, lo so. Bellissimo. Wow. Wow. Beh, cosa facciamo, Andy? Che ci guardiamo l'orizzonte? Brucione. Ogni volta mi gira e guardo te, ma... Tipo, ho paura perché mi aspetto qualcos'altro. Invece no, se stai vedere... Allora... Qua c'è della... No! Non vedo niente, che succede? Ali? Oh no. Ali? Oh darkness. Ok, è finita. È finita, è finita. No, sento i rumori ancora brutti. Oh no! Scappa! Scappa, scappa, scappa! Corri, 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 scappa! Scappa, scappa! Ali, stiamo uniti, stiamo uniti, stiamo uniti, vi dico... Dove sta? Continua a correre, continua a correre. Andy! È dietro lì! Ma cammina uno schifo, sta serpentando per... Oddio! 360! Schiva! Schivalo! Oddio! È buggatissimo, Ali! Non dovrebbe... Dove sei? Che? È sparito, è sparito. Ma cos'era? Secondo me... Secondo me è a causa dello schifo di Sever di Aternos. Era... Il mosso era buggato e camminava faccia a terra. Però è stato bellissimo. Ma... Oh! Ali, fai spawnare le mosche, sei puzzi! Così, ah! Cosa? Andy! Oh, mosca! Fattene a far bagno! Ali, stai tirando mosche! Oh, la mosca mi è andata ferme! No, Andy, non mangiarlo! Andy, no! Senti, ho fame, ok? Questo è un bacchicidio. Il bacchicidio. Basta! Hai preso le tue bacche? Stai a posto? È una bella zona, però. Vedo che la mod biome supplenti aggiunge dei biomi molto carini. Ma non mi sento da tanto la giusta. Sento brutti suoi, aspetta. E posso venire di una radio? No, no, quelle... Quello è... Sono i rumori di Minecraft. Sì, certo. Magari c'è uno squalo che ti ammora. Adio! Ah, sono i brutti. È Minecraft normale. No, non è Minecraft normale, assolutamente. Guarda che bioma strano. È tutto... Guarda, è un bioma tutto... Senza erba. No, l'erba c'è. No, c'è la... Guarda qua. Questa sezione... Questa sezione è senza erba. Oh. No. Non vedo niente di nuovo. Sta arrivando... No, di nuovo lui. È lui. Mannaggia a te. Mannaggia a te. Mi è arrivato pure l'altro effetto. Che sei ancora in tempo. Non vedo niente. Ali? Ali? Dove sei Ali? Ali? No. No, 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 no. No, 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 no. Ali è morta. Dove devo andare? Non lo so. Sto fermo. Sto fermo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sono vivo. Cos'è quel coso? What the fuck are you? Perché c'è tipo Hulk? Questo è Hulk di Minecraft, cioè... Madonna. C'è forte, questo è un mago. Chi... Chi sta succedendo? Oh mio Dio. Cos'è quel coso? Hello? Vedete, sei bruttissimo. È bruttissimo quel coso. Oh she... Oh she... Non è nemmeno oro a sta sezione. Aiuto, mi ha assordito. Vabbè, assolutamente uccidetevi, cioè faccio prima. Ali dov'è? Ali? Dov'è? Preparo andare verso... Ah, no, no. No! No! Non sapevo! Giù! Scendi giù! Vai giù! Vai in giro! Vai in cerchio, in cerchio, in cerchio. Vai in cerchio. È sparito subito, vado. Che fortuna. Ali? No, 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 no. Non, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Uè, si muove ancora quel coso. Mannaggia a stooghู sino. Storanio che mi fanno più paura del mostro stesso, mannaggia a te. Ali? Ci sono? Ali? Andi? Mi senti? Ti ho trovata Sei dentro la casa? Sì Nacciatti Ali ti vedo Ali Oh mio dio Ali Che cosa succede? Ti vorrei abbracciare non si può Hai un mini Un mini schede dietro Papiros Vai via Ho due Hai un mini schede Due mini schede Ali Ali non hai idea di cosa ho visto io mentre non c'eri Oh mio dio Sera Cos'è? Oh non lo so C'è uno scheletro senza braccio Perché puzzi anche tu? Perché ho mangiato la carne guasta Sono stupido Io e la carne guasta Potessi non toccarmi? No Perché ha quitato? Ali? Oh no Oh no Oh no Oh no Ti prego No L'ho guardato Non dovevo guardarlo Ho capito Non dovevo guardarlo Eh niente Ragazzi sono morto Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Uno che puzza Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Aiuto Oh mio dio Sai cosa? Geronimo muori Succhi Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Grazie.